Musica Benvenuti in questa puntata di Fantacinema America e se in questo periodo non abbiamo toccato proprio tutte le volte i programmi USA, i film USA vi assicuro che questa volta sarà tutto made in USA, nel menù c'è il film americano il film americano di oggi è bellissimo e tra l'altro abbiamo sempre Aulien che è il mio mostricciattolo che mi mangia a sbafo allora mi raccomando siete pronti? Scheda! Credetemi, meraviglioso, film antesignano e stupendo e non è altro che il viaggio all'interno del nostro corpo umano è veramente da vedere e poi c'è la fantastica Racco e Guelci Uno scienziato ha scoperto un processo per miniaturizzare gli oggetti Possiamo ridurre tutto alle dimensioni che vogliamo Ma come? Credevo di essere in vacanza Ma lavorando sui singoli atomi per poi rendere il processo permanente E questa scoperta fa gola anche ad un'altra nazione, indovinate quale? Ci hanno preceduto I cattivi quindi decidono di uccidere questo Erprofesso Che non muore ma cade in coma La CIA vuole assolutamente salvare il professore e recuperare la scoperta La risposta al nostro problema E qui comincia il fantastico viaggio Per dove? Uffa! Il segreto del processo permanente è in possesso solo del professore Assoluzione Bravo! E quindi bisognerebbe operare il professore dal di dentro, no? Dove trovo un tassi per andarmene? In questo viaggio bisogna miniaturizzare il sommergibile Miniaturizzare lo staff degli agenti e dei licenziati No, è solo per un'ora Neanche per un minuto Però c'è una limitazione, no? La miniaturizzazione persiste solo per 60 minuti Cavolo, vi aspetta un'avventura eccezionale, avvincente Io ho sofferto di claustrofobia Vengono iniettati nella vena arteriosa del collo Poi per via vanno sotto attraverso i polmoni Fino all'orecchio E fino ad arrivare dall'orecchio al cervello Turbolenze di coda E poi alla fine scoprirete cosa succede Ma non era già abbastanza difficile così? I globuli bianchi Porca miseria E poi ci si mette ancora di mezzo un sabotatore Riusciranno ad uscire in tempo, eh? Fino all'orecchio Uno, sforano col tempo e patatrack E il professore è caput Due, la mala sanità ci mette lo zampino Tre, riescono nella missione e la CIA è contenta Ma come erano le soluzioni di terrore nello spazio? Rivediamole insieme e scopriamo quella giusta Troppe meteore e il deviatore è saltato Non arriveremo mai sul loro mondo Per aprire la strada a quelli che ci seguiranno Che facciamo allora? Scenderemo lì, su quel pianeta Non c'è altra soluzione Potremmo disintegrarci da un momento all'altro Ho già fatto le analisi con la sonda spaziale Laggiù l'atmosfera è respirabile È il terzo pianeta della stella che noi chiamiamo Sol È così piccolo che non è neanche segnato Sulle nostre carte di astrogazione Ma credi che ci saranno degli umanoidi Per poter entrare nei loro corpi? Sì, anche se è un pianeta giovane Nello stadio iniziale della sua evoluzione Io penso che vi esista la vita Inserisci il visore telescopico Ecco, vedi? È proprio una civiltà primitiva Soltanto degli umanoidi Possono avere costruito delle case così Fatte ancora in cemento e acciaio E come credi che ci accoglieranno? Spero bene Per loro Inquietante, vero? Ma anche Ullien fa parte di questo piano? Scuri, vero? Beh Consigli pillolosi Primo consiglio pilloloso Da vedere Allora Cyborg Anno 2087 Programmato per uccidere Metà uomo Metà macchina Sembra uno di quei film antichi Banditi del 70, anzi del 60 Banditi a Milano di Carlo Lizzani Andata e ritorno Milano-Palermo La mafia Io ti vedo e tu no Però ti sparo Ecco, una roba del genere L'attore è quello di Ultimatum alla Terra Quello di Klatu, Barada, Nikto Un alieno che viene a trovarsi Per raccontare di quanto sia pericoloso Per noi il progresso tecnologico E quindi il destino dell'umanità Nel 2087 questi Cyborg Mezzi uomini e mezzi macchina Controllano per conto di un'elite Il pianeta Terra Alcuni ribelli umani Catturano una di queste creature E con una macchina del tempo Inviano il cyber armato di pistola Raggi X Indietro nel tempo Per bloccare dal nascere Il progetto di controllo dell'umanità Riusciranno gli umani nella rivoluzione? Ma Un altro film che vi consiglio Sarebbe Zontar The Thing from Venus Che sarebbe un film per la televisione Però va bene lo stesso Guardatelo Dei messaggi vengono ricevuti sulla Terra tramite un satellite Dedicato alle telecomunicazioni All'inizio sembrano dei contatti pacifici Ma dopo Prima fanno cadere un satellite Tutto ciò crea un blackout E alla fine cosa vogliono fare? Vogliono controllarci la mente Giusto giusto Dai Andiamoci giù pesanti eh Che qui non la vedo molto bene Hai capito vero animaletto eh? E se non vuoi fare la fine di Zontar Cerca di rigare dritto Adesso ti faccio fare una bella cosa Bagnetto Odiano l'acqua Oh Milano andate ritorno La mafia vuole uccidere io no Cose del genere E la polizia non può rispondere Non lo so Dai no no dai da capo Cosa blanca Dai da capo dai 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 Ritorno indietro tu no Adesso te la do viva Ti uccido mentre ti mangio Ecco queste cose qua No te la do viva Nel 2007 i cyberg mezzi uomini e mezzi macchina Praticamente vengono 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 dove? Vengono Ecco dove cagli Nel 2087 questi cyberg mezzi uomini e mezzi macchina Vengono per controllare Questi Ah la p***o 2087 questi cyberg mezzi uomini e mezzi macchina Vengono in Italia Scusa eh Metti tutte alla fine Metti tutti i ciac Nel 20... Sono un po' rincolleggi Nel 2087 questi cyberg mezzi uomini e mezzi macchina Controllano per conto di un'elite Datemi dell'alcol Sette Questi uomini Mezzi macchina e mezzi... Dico a forza Nel 2087 questi cyberg controllano per conto di un'elite Mezzi uomini e mezzi macchina Bruciatemi Ma fanno cadere satelliche Te che